Rettore, una scoperta, possiamo dire, straordinaria nel cantiere di medicina veterinaria. Assolutamente sì, la cultura nella cultura. Assolutamente sì, come dicevamo, questo ritrovamento di tombe che sono ascrivibili all'età del ferro, ma tombe intatte, tombe a circolo, la prima scavata, la più bella, è proprio la sepoltura di un bambino, che a me piace definirlo un bambino guerriero, quindi con tutti i monili, insomma praticamente rinvenuto in modo perfetto, così come anche altre sepolture. Quindi Piano Daccio si conferma essere una fucina veramente di scoperte dal punto di vista archeologico. Ricordiamo anche il ritrovamento della fornace romana nei primi lavori che sono stati fatti per il plesso. Io volevo anche sottolineare e ringraziare ovviamente tutto il gruppo di lavoro dell'Ateneo, ringraziare il collega Cohen, la collega Colossimo, quindi il professor Cohen si occuperà poi della parte di musealizzazione di questi ritrovamenti. La professoressa Colossimo, in collaborazione con l'Università di Chiedi, si occuperà di paleogenetica, quindi anche per inquadrare geneticamente le popolazioni. Ecco, come si procederà con questi rinvenimenti adesso? Adesso verranno, dopo tutti i rilievi fatti, verranno completati gli scavi e verranno rimossi, ovviamente con tutte le procedure dettate dalla sovrintendenza, ovviamente non posso che ringraziare anche la sovrintendenza per il lavoro, e poi verrà predisposta la musealizzazione. Sui reperti organici verranno fatti degli studi proprio per definire la popolazione. Perché la rimozione? Ricordiamoci che quello è un cantiere legato ai fondi per la coesione, per edificare degli stabulari per l'adegenza di grandi animali e anche dei laboratori di pet therapy e abbiamo anche delle scadenze, giustamente con la regione, per le tempistiche. Quindi dobbiamo gestire il tutto, quindi con l'entusiasmo e l'emozione legata al ritrovamento, ma anche nella gestione dei tempi per non bloccare poi i lavori per il Dipartimento di Medicina Veterinaria. Il 16 giugno ci sarà l'apertura al pubblico, questo mi consente anche di ringraziare il FAI che si è reso disponibile a gestire questa giornata, quindi molto molto importante questa collaborazione.